Ciao ragazzi, benvenuti e benvenuti al canale, io sono Magnus, oggi siamo qui sullo youtuber del retro è un pochettino che non ve lo stavo portando, ma più che altro perché mi piace spesso sozzicarvi anche con giochi un pochettino particolari che magari non avete visto spesso, naturalmente sapete che si tratta sempre di giochi un po' vecchiotti, ma particolari naturalmente qualsiasi video che sapete vi faccio in zoom, per commento, mi piace oggi siamo qui con GeForce, in pratica il cartone animato della Walt Disney, quello che riguardava le super spie in missione dovrebbe essere anche in inglese, non lo so, ma penso che sia facile, partiamo dai ok, quindi penso che sia una fase tipo di tutorial iniziale ok, per cui perfetto, così quindi si salta e altri tasti non facciamo una mazza ah ok, per individuare l'obiettivo e graficamente, considerate che è del 2009 graficamente non sia manco male proviamo ok, double jump uuuuh uuuuh e il double jump è bellissimo ok quindi così posso anche stare in sì ma prima o poi terminerà vabbè quindi anche questo l'abbiamo imparato ok ok, quindi faccia così ah pensavo che avesse sbagliato il primo appoggio vabbè, è un tutorial ah, rilascio per una cosa verticale ok no ah, ok, sì uuuuh quindi in pratica il jet è tutta una serie di manzare L1, R1 ah, per sparare ok a chi sparo? a questo? porca paletta ok basta, uuuuh sto un po' esagerando così oh, che figa ah, aspetta però adesso abbiamo qualcosa qua sulla destra che cosa? non lo so devo colpire ancora qualche altra cosa pensa qua ok, là dentro vai sì, un po' troppo penso bravissimo è carino è divertente mi piace lo sapete mi piace anche scherzare su questi giochi un pochettino particolari ok perfetto e poi personalmente lo trovo abbastanza abbastanza lineare allora di qua ci sta niente ok, fantastico per andare più forte come si fa? no, non posso correre allora oh, ok ok, ho capito mi voglio spostare un attimo oh, attenzione ai, 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 ai non fai tanto danno però ah, posso anche premere ah, quindi è come Darksiders ci abbiamo il blocco esplosione non mi ha ancora insegnato una cosa questo me lo voglio becchiare a che cosa serve queste cose che stiamo recuperando sicuramente serviranno a qualche cosa io me le becco perché secondo me più in là servirà a qualche cosa sicuramente allora ci abbiamo becchiato ok, eh questa è la parte più bella quindi siamo alla fase 6 sul 9 ok ok per andare su e giù allora, certo vi dico la verità, eh per colpire è sempre così? ecco sì ok voglio capire ah, ecco, vedi qua devo premere ora è tutto chiaro, eh perfetto ora possiamo entrare, vai ah, per sprintare quindi R2 porca la paletta ma se gioca una figata pazzesca aia ah, ecco con R2 facciamolo piano aia un po' ci ha becchiato, eh con R1 ok, già perché adesso dobbiamo far passare anche andiamo, andiamo così andiamo col turbo, vai oh, che figata ok, adesso penso che ci aspetta questo ne vogliamo un attimo beccare perché penso che ci danno qualche cosa ok, questo è nostro c'è più niente, è vero? l'oggetto ok stiamo scannerizzando quindi oh penso qua fantastico sì, vado un po' in difficoltà no, no, aspetta che qua devo cambiare per ritornare ok fantastico sì, ah, già anche così posso distruggere ve ne ho scordato mi sto recuperando un sacco di queste cose spero sicuramente che servino a qualcosa poi dopo lo scopriremo sicuramente ok ci squisita ancora niente fantastico comunque anche nei movimenti è abbastanza armonico, lineare vabbè o magari poi mi scrivete sotto nei commenti che è diverso comunque sabotaggio sì, è salva l'oggetto quindi dobbiamo fermare questi cyber un giardino Invisible, Invincible Mi sa che mi recupererò il cartone animato No 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 ah ecco siamo in 3 e quindi ok possiamo utilizzare le cose vabbè ok quindi stabber mansions ok ok quindi appena siamo nel giardino gli dobbiamo confermare la posizione ok io però penso che anche se penso che dobbiamo stare comunque attenti e ok penso che devo stare attento a non farmi anche vedere sì allora vediamo se riesco ad assumere ecco una posizione che ci permette di non farci vedere questa non ci vede ciao bello ok vai veloce vai ok da là dobbiamo andare vai non dovrei avere problemi ad arrampicarmi e infatti non ce l'abbiamo ok tranquillo allora dobbiamo attivare la eh ah ecco adesso dobbiamo attivare quella parte lì ok ma no no non si poteva attivare facendo uno no devo ritornare indietro un'altra volta quindi ah no da qua aspetta vediamo se riesco aspetta vediamo ok mi raccomando non cadere ok di qua siamo andate alla grande qua c'è un altro punto vai per salire vai con calma ok da là possiamo entrare tutto a posto ragazzi ok arriviamo oh porca paletta ok oh e secondo me ce la facciamo fino a laggiù ah comunque là si può passare io provo eh non mi deludere non mi deludere non mi deludere ok grande state ca ariatore mica ci da fastidio oh credo che ci siamo allarme o sbaglio no vai vai rapido 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 ok ok si ah dobbiamo equipaggiare il plasma si ho capito se ci conviene ok perché da qua ok da là dobbiamo passare ma non ho capito se vediamo ok ok ce l'ho fatta ce l'ho fatta da qua si oh meno male che sti ariatori non ci danno noia eravamo spacciati che faccio mi getto ok non c'è nessuno checkpoint grazie al checkpoint c'è nessuno buonasera salve oh porca ah ecco perché dobbiamo non poter trasformare allora ancora non è arrivato dobbiamo disabilitare la telecamera ok perfetto telecamera disabilitata musca attenzione vai è già aperto si allora oh se non ricordo male dove potrei no però aspetta 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 forse riesco da qua da qua dentro riesco a entrare vai si ok ci siamo e ora da qua posso aprire vedere no ora proviamo no non posso aprire forse da qua ah da qua da qua da qua prego prego entra entra da qua no da qua scusa da qua da qua ok abbiamo aperto l'altra porta pensavo avessimo aperto quella vai di qua vai di qua ok questa si apre fantastico allora ok ci siamo vai è chiarato è chiarato ok dobbiamo recuperare la key allora ho visto si per inserirla là dentro dovrebbe stare là sopra si ok allora ah quella quella cosa vediamo un po' se riesco a entrare da qua ok vai nel mare che mi sono ricordato da qua ok vai la becca da qua che dite ok ragazzi l'abbiamo becchiata credo di andare un po' in difficoltà attenzione che vado leggerissimamente in difficoltà colpito attenzione l'appoggio qua ok ci siamo vai vai ritorniamo un'altra volta io ero andato là perché pensavo che vai ci dovremmo essere adesso che che cosa ha l'abbiamo 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 Grazie a tutti, Darwin. Grazie a tutti. Oh, che figata. Tutti avvelenati. Oh, questo gioco è fantastico per come l'hanno ideato, ma veramente... Bellissimo. Ok ragazzi, io penso che questa parte come prima missione può terminare qui. Gran bel gioco, cioè considerando che c'è 10 anni, veramente molto divertente. Credo che sicuramente mi andrò a recuperare il cartone animato perché mi è piaciuto tantissimo. Scrivetevi sotto nei commenti se conoscete il gioco, se conoscete, ma sicuramente conoscete sicuramente anche il cartone animato. Naturalmente che passatevi un video con se avete un bucce su, per il commento, un bel mi piace. Ci vediamo se ne ha più salito. Bye. Ciao.